Da oggi le nostre realtà commerciali sono in rete, nel vero senso della parola, perché abbiamo presentato il nuovo portale che raccoglierà tutte le attività del territorio di Servazzano e non solo attività, esercizi, realtà artigianali, ma anche tutte le iniziative, i luoghi da visitare, le bellezze e i tesori racchiusi nella nostra città. Qui le persone troveranno anche corsi di formazione, bandi di gara, tutto quello che può essere interessante per migliorare e accrescere la propria attività. Quindi da oggi il distretto del commercio di Servazzano è anche online.